buonasera a tutti amici e amiche questa sera faccio un video lampo perché c'è un profumino che sto usando lo uso quando non ho tanta voglia di di avere profumi importanti e è un profumino che ho scoperto in realtà ho scoperto comprato qualche anno fa all'estero credo che si trovi comunque al dm ed è la marca è la rive vaniglie è un 30 ml questo l'ho pagato più o meno sui 5 euro forse anche di meno perché era in offerta e vi parlo di questo profumo perché eppure essendo cippissimo io trovo che sia esattamente il dupe anzi no non mi fate dire parole non è neanche limitazione però diciamo che la versione cheap super cheap della del profumo alle bambole di nobile chiaramente il profumo di nobile è molto più bello più complesso la materia prima si sente che realistica che si sente che un profumo comunque di un certo livello questo profumo qua è tipo è una vaniglia bambolosa perché è una vita che io la ritengo così l'avevo forse anche recensito in un post di fragrantica perché a me è piaciuto un sacco proprio quando l'ho comprato l'ho provato allora è una fragranza del 2013 e fragrantica anche se tutti quanti sanno andare su fragrantica e trovare le note c'è qualcuno magari che guarda il mio video non c'ha voglia di farlo e io dico le note che ci sono vanigliato balsamico talcato dolce floreale bianco floreale dunque le note sono di testa gardenia bambù gelsomino mela rossa e pesca note di cuore sono gelsomino fresia e rosa note di base muschio sandalo ambra vaniglia cocco e orchidea è un profumo che sinceramente io ovviamente non ci sento tutte queste note che menziona qua dentro forse un pochino ci sento la fresia un pochino ci se la vaniglia vabbè ovviamente perché un profumo alla vaniglia ma tutte le altre note non non sono distinguibili non sembra per niente io di fiori ci sento poco e niente di mela di pesca ancora meno però è un profumo che assolutamente sa tantissimo di plastica delle bambole infatti io non l'ho usato tanto in questi anni l'ho usato solo così in qualche periodo qualche breve periodo proprio perché questa nota che poi io non lo so se la rive ha voluto questa nota se è un difetto perché magari un difetto delle note super sintetiche che questa essendo economica contiene anche se a volte un profumo può essere economico ma non può avere sentori così sintetici anche se anzi sembra molto naturale invece questa vaniglia qua è super super bambolosa ma proprio a una plastica è ancora più pesante di appunto del più presente del profumo di nobile e vi dico non so se è un effetto è voluto effetto voluto sono stati bravissimo o forse un effetto un po così un effetto di capitato per caso a chi ha prodotto questo profumo a chi si è ispirato una cosa che ho solo notato ultimamente interessante è che questa vaniglia la paragonano a dei profumi veramente molto secondo me notevoli fra cui dicono che ricorda la mandorla di erbolario e in effetti ha qualcosa di mandorla di erbolario proprio l'effetto talcato e vanigliato dicono che somigli anche a tobacco vanille di tom ford proprio la versione sciacquata di questa vaniglia di tom ford ovviamente dicono che somigli anche a wild amber di vzrochet io non lo so perché non la conosco poi dicono che somigli sto guardando il tablet di luca dicono che somigli ancora a un altro profumo che io non conosco che è island vanilla di pacifica da donna mai sentito deve essere un altro profumino cheap vedo che ha del miele potrebbe essere interessante poi devo ordinarlo questo poi dicono che somigli a una vaniglia di carrément bell però non quella che ho io classica diciamo e dicono che somigli anche a aspettate che ce n'è un ultimo anzi molte persone sei persone dicono che somigli a creme brulee di zara gourmand collection che è un profumo del 2015 quindi io non è che ho tante cose da dirvi su questo profumino qua che veramente è un giocattolino però se provate ad andare al dm secondo me non so perché ma questa linea ce l'hanno e credo anche questa vaniglia provate a comprarla a sentirla se vi piace la vaniglia può essere interessante e ditemi che se anche voi ci sentite questa nota molto plastica perché secondo me è quello che proprio caratterizza questa vaniglia qua ovviamente è una plastica un po' a chi non piace può essere invadente sa quasi di è al limite fra molte persone in certe vaniglie dicono che sentono la gomma bruciata è un pochino questo rasenta la gomma bruciata ma ovviamente non è così forte però è molto bamboloso quindi vi consiglio di provarlo a sentire di comprarlo perché è carinissimo versatile insomma da buttare in borsa io proprio in questo periodo lo uso lo butto in borsa e quando esco dal lavoro sto lavorando in pieno quindi ecco perché la faccio anche sfatta e quindi provatelo e fatemi sapere un bacione ciao ciao ciao